Partiamo dall'area di tristezza che c'era in campo. Siccome tutti quanti mi hanno fatto questa domanda, ovviamente dico che si poteva evitare di giocare. Sono situazioni che però non dipendono da noi come società e come squadra. Ed è chiaro che la squadra oggi voleva regalare anche un piccolo momento di gioia, anche se insignificante per quello che è successo alla regione, ai tifosi e alla popolazione abruzzese. Siamo tutti colpiti da quello che è successo perché siamo personalmente coinvolti in quanto conosciamo benissimo la struttura dell'hotel Rigopiano, i dipendenti, chi la gestisce. Siamo stati spesso loro ospiti e veniamo costantemente aggiornati sulla situazione. I ragazzi ogni giorno parlano di questa cosa e quindi oggi veramente la squadra ha giocato con il cuore vicino a questa gente. Poi possono nascere mille polemiche inutili sul perché si è giocato, si poteva giocare, non si poteva giocare. Potremmo parlarne per tanto tempo. Però ecco, veramente abbiamo giocato col cuore vicino a questa gente e abbiamo giocato anche, non ci siamo riusciti, ma per cercare di dare un piccolo momento di gioia oggi a quanti ci seguono e a quanti tifano per noi. Sulla partita dico che sulla situazione che hai detto nostra di classifica, che abbiamo dato l'addio alla Serie A, prima sentivo che il Crotone che oggi è pareggiato a Genoa e che ha dieci punti, un solo punto più di noi, ci crede fortemente. Quindi non vedo perché se gli altri ci credono non ci dobbiamo credere anche noi. Siamo però realisti, la situazione è molto difficile, siamo realisti ma ottimisti perché abbiamo una partita in più da recuperare, anche se il distacco si è fatto più grande di quello che era prima, però noi ci crediamo fino in fondo. Secondo me la squadra, secondo noi la squadra oggi ha fatto una partita difficile ma generosa, abbiamo preso il secondo gol nel nostro momento migliore. Se siamo in questa situazione, se subiamo determinati gol, vuol dire che abbiamo comunque dei limiti e che facciamo degli errori, altrimenti avremo un'altra posizione di classifica. Però i ragazzi individualmente e come collettivo, devo dire la verità, che danno tutto con generosità e con dignità in ogni partita. Facendo anche degli errori come li facciamo noi tutti come staff tecnico. Veramente un'immagine dei gol subiti che non è nitida, ma al di là di quello non esiste parlare di individualità, di errori personali, di errori individuali, perché in questa squadra, e abbiamo fatto degli errori e li stiamo continuando a fare, li fanno tutti e quindi nel caso di Bizzarri è un discorso su cui non voglio entrare perché non mi sembra proprio irrilevante parlare di Bizzarri.